Assunzione di responsabilità e vigilanza sul percorso della nuova struttura sulla quale anche questa mattina erano in corso le ultime rifiniture. Nel giorno in cui l'editorium Scavolini vede la luce fra Viale dei Partigiani e Viale Marconi sulle ceneri del vecchio hangar, l'opposizione in consiglio comunale di oggi e di ieri non dimentica gli errori su un cantiere che oggi vede il traguardo dopo un percorso che è stato un'odissea lievitate in maniera esorbitante per quel che riguarda tempistiche e costi. Chiaramente quando si inaugura un edificio nuovo in città è sempre un momento comunque importante, però non bisogna assolutamente dimenticare quello che è successo e questa amministrazione sicuramente oltre ai momenti di festa per inaugurazione di questo impianto farebbe bene chiedere scusa alla città perché come ben sapete è un impianto che la costruzione è durata ben dopo l'annuncio nel 2016, viene inaugurato il 29 febbraio del 2024 dove i soldi che erano stati preventivati a 3 milioni e mezzo sono arrivati quasi a 10 milioni di euro. Ci sono delle responsabilità anche in fase di progettazione, nella fase iniziale perché non si può preventivare di spendere 3 milioni e mezzo e arrivare a spenderne 10, se tutto ciò cadesse in un'azienda privata non so che fine farebbero sicuramente coloro che hanno portato a questo risultato e se si fosse lavorato alacremente, velocemente come in queste ultime settimane sicuramente non saremmo qui. È ora che quando ci sono queste situazioni, si fanno questi errori, qualcuno deve assolutamente pagare. Ognuno deve fare le sue valutazioni, contenti che l'impianto apra, sicuramente molto meno contenti di quello che è successo e di tutto quello che c'è attorno. Ringraziamo comunque la famiglia Scavolini per il contributo che come sempre dà anche per questo impianto, in questo caso anche alla città quindi bene per queste cose, molto meno bene per tutto quello che c'è stato prima. Il nostro compito come consiglieri comunali sarà proprio anche una verifica non solo sui costi, non solo sull'allungo infinito del cantiere ma anche una verifica che davvero questo palazzetto sia aperto a tutti e che da domani possano esserci iniziative tutti i giorni e sia un po' il volano di Pesaro Capitale della Cultura, possa ospitare iniziative, possa ospitare persone. Verificheremo che ci siano tutte le autorizzazioni che consentono l'accesso alle persone per il pubblico spettacolo e rimarremo sul pezzo e non ci faremo intimidire sicuramente dal fatto che è arrivato un parere favorevole. Chiederemo la documentazione perché è giusto che i cittadini pesaresi possano utilizzare il palazzetto possano farlo al meglio e possa ospitare gli eventi della Capitale della Cultura.